Allora, è iniziato tutto per gioco con la realizzazione del cappuccino personalizzato per nostro figlio. Da lì nel web è scoppiata una vera e propria moda, perché andando a pubblicare tutte le foto dei cappuccini che realizzavamo, si è allargata questa situazione e abbiamo preso proprio piede con questi disegni personalizzati. Da lì abbiamo pensato anche di omaggiare il comune di Porto Sant'Erpidio. Allora, è una crema compatta che viene fatta senza bolle. I tempi di lavorazione variano a seconda del disegno che viene realizzato. I tempi più o meno vanno per una lavorazione tipo per lo stemma del comune di Porto Sant'Erpidio andiamo anche sui 10 minuti. Cerchiamo comunque di ottenere sempre il risultato migliore per dare al cliente la soluzione migliore. Nel Grazie a tutti.